Come sanno un po' tutti che ho avuto una storia un po' particolare, ho venuto da un viaggio lungo che era un po' dura, però da quando sono arrivato qua mi ha cambiato la vita. Secondo me ancora non l'ho fatto, ho ancora tanta strada da fare, cercherò sempre di allenarmi al massimo e di dare tutto il possibile per aiutare la squadra. Esempio 4-5 anni fa stavo in Africa, guardavo i giocatori in tv che facevo tifo per loro e oggi stavo giocando contro di loro, quindi sono molto emozionante. Mi hanno detto, Ibra guarda vai tranquillo, gioca che sei forte, gioca semplice, non forzare le giocate. Quindi ho fatto quello che mi ha detto il mister e i compagni, ho cercato di aiutarli al massimo, quindi sono contento. Sì, abbiamo vinto, però purtroppo come sappiamo non siamo qualificati, quindi mi dispiace per quella parte, però comunque sono contento e sono contento anche per il mio compagno Zaleschi che è entrato e ha fatto gol. Ora abbiamo un momento un po' così, però dai noi cercheremo di riprendersi subito perché con mister stiamo già lavorando tanto. E vorrei ringraziare il mister e tutta la staff, da quando sono arrivato mi ha insegnato tante cose che dall'inizio non ci avevo. Quindi se oggi sono qui, grazie anche al mister e alla sua staff, li vorrei ringraziare tutti.